Si parla di pallacanestro, probabilmente è la città ideale per farlo. Se parliamo in chiave storica, da qui sono passati i Kobe Bryant da bambino, Manu Ginobili, Gaetano Gebbia, non solo. Delfino, Sconochini, Montecchia, potremmo andare avanti. Qualcosina è passato di qui e credo che non sia un caso, anche perché ancora oggi se dici Reggio Calabria a chi c'è stato, gli si illuminano gli occhi. Una bella serata, pallacanestro che non c'è più, che vuol dire? Ma che vuol dire che la pallacanestro sta cambiando. Vuol dire che automaticamente ritenere quello che c'era prima meglio di quello che c'è adesso è sbagliato, anche se fino a dire che Gino Abili e Montecchia sono più forti di quelli che giocano oggi in Italia, non ci vuole un'autorità in materia. Di certo sono stati anni da ricordare, che è bello ricordare, non lo farei, ripeto, dicendo che è bello, che non tornano più, perché non mi sembra esattamente il modo giusto di fare. Un altro anno per Manu Ginobili. Qui abbiamo fatto festa. A Casa Tranquillo? A Casa Tranquillo hanno fatto festa i bambini perché si identificano molto in questo giocatore, conoscendo la sua storia. Credo che abbiano fatto festa soprattutto a San Antonio perché è vero che hanno rinforzato la squadra, è vero che hanno preso Aldridge, ma ritengono la motivazione di provare a dare a Manu e a Duncan la famosa Last Dance con titolo, la motivazione principale per provare ad arrivare dove vogliono arrivare, anche se poi naturalmente, non so per Duncan, ma molto probabilmente per Manu, i minutaggi, le responsabilità, le situazioni tattiche saranno molto diverse rispetto al resto della sua carriera, ma proprio per questo secondo me sarà stimolante per lui. Quattro italiani della NBA, in nazionale, verso un europeo, tutti si aspettano tantissimo? Sì, tutti si aspettano tantissimo. In realtà si può uscire al primo turno giocando benino e si può andare in finale giocando magari malino all'inizio, come ha fatto l'Italia all'Olimpiadi del 2004, per dire agli europei del 2003. La chiave sarà quanto non solo i quattro NBA, ma diciamo i sette, otto giocatori principali avranno intenzione e voglia di giocare assieme in difesa, che sono i due punti di domanda andando verso questa manifestazione. Maschetti italiano, cambiano regole, nomi praticamente ogni anno? Sta per nascere la C Gold e C Silver? Scompare la Lega 2, Gold e C Silver? Ci stiamo un po' confondendo tutti? Sì, ci stiamo confondendo, ma quello non sarebbe un grosso problema. Il problema è che tutti questi cambiamenti fanno da sfondo a una situazione in cui in primo piano c'è una difficoltà, non chiamiamola crisi, chiamiamola difficoltà strutturale. Sarebbe più importante mettere in mano la difficoltà strutturale che non alle denominazioni o alle formule astruse o alle combinazioni 3 Bosman A più 4C più 6D più 7 al quadrato. Grazie mille. A voi! Grazie mille.